Sono Francesca Di Gangi e sono la docente del corso Scrivi la tua storia. Scrivi la tua storia è un titolo semplice, ma porta in sé un grande valore, il valore che è della tua storia, di tutto quello che hai vissuto e che oggi ancora vivi, e che puoi nel mio corso imparare a mettere su carta. Lavoreremo su due diversi momenti. Come sai, i nostri corsi sono divisi in due semestri. Nel primo semestre ti farò provare cos'è la scrittura emotiva, cosa vuol dire avvicinarsi al foglio bianco, come distruggere, mettere da parte, dimenticarsi della paura del foglio bianco e altre cose che avrai il piacere di provare. Nel secondo semestre andremo un po' più nella tecnica, quella tecnica narrativa che ci serve per scrivere una narrazione più o meno lunga, che però sia anche leggibile, nel senso che abbia dei criteri di leggibilità editoriale. Nel secondo semestre il mio corso, Scrivi la tua storia, si intreccia col corso sul teatro invisibile il radiodramma. I miei allievi scriveranno quello che diventerà il soggetto di un radiodramma che gli allievi del corso del professor Viani poi metteranno in scena. Quindi ci sarà questa magnifica fusione di questi due corsi. Io ti aspetto a partire dall'inizio dei corsi. Il martedì dalle 19.20 alle 20.50, tutti martedì. Basta che tu abbia carta, penna e un po' di voglia di metterti in gioco.